Soprannome. Gli omicidi di Tokyo. Numero vittime. 10 accertate. Modus operandi. Stupro, strangolamento, incendio. Il caso degli omicidi di Tokyo sono una serie di efferati omicidi avvenuti a Tokyo, Giappone, tra il 1968 e il 1974. Gli atroci delitti, secondo le indagini, sono stati commessi da un solo uomo, un serial killer mai identificato, che prediligeva donne e ragazze. L'incubo iniziò il 13 luglio del 68, quando fu trovata morta una ragazza di 26 anni, in un campo. Era stata brutalmente stuprata, e bruciata viva. Ci fu un lungo periodo di pausa, fino al 26 gennaio 1973, un'altra ragazza, di 23 anni, è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento. Era stata uccisa mediante strangolamento. Il suo carnefice, successivamente, ha dato fuoco al cadavere. Neanche un mese dopo, un individuo diede fuoco ad un appartamento a Suginami. Furono arsi vivi madre, e figlio, di 63, e 22 anni. Dopo questo duplice omicidio, l'assassino si prese una pausa di circa un anno, per poi riprendere il 25 giugno 1974, quando uccise una ragazza di 30 anni. La prima stuprata, poi strangolata, ed abbandonata in un cantiere edile. Da qui in avanti, seguiranno altri sei omicidi, in una frazione di tempo molto ravvicinata. Il ce fece preoccupare le autorità. Il soggetto ignoto stava facendo dei progressi, avevo preso più confidenza, non sembrava curarsene del fatto che una sequenza di omicidi del genere, avrebbe potuto portarlo alla cattura. Era spietato. La popolazione era caduta nel terrore totale. Le aggressioni erano quasi all'ordine del giorno. Non vi era una settimana nella quale gli investigatori non trovassero almeno un corpo. Tutte ragazze, stuprate, e barbaramente assassinate, strangolate, e date alle fiamme. Il serial killer si aggirava per la città intorno alla mezzanotte. Un'ombra malefica, che col favore dell'oscurità, cacciava donne e ragazze sole, per sfogare la sua sete di sangue. È il 12 settembre 1974, quando scattò il primo arresto. Si trattava di Eço Ono, un operaio edile di 37 anni. Arrestato per furto, fu sottoposto ad incessanti interrogatori, ed indagini, in quanto era sospettato di essere l'assassino. Ono aveva un passato turbolento. Aveva passato 13 anni dietro le sbarre per vari reati, quali furto con scasso, incendio doloso, aggressione. Una volta era stato arrestato per aver fatto irruzione in un appartamento a Tokyo, per uccidere il proprietario, senza riuscirci. Le indagini portarono al risultato che Ono aveva lo stesso gruppo sanguigno del serial killer. In più, conosceva bene le zone degli omicidi, in quanto anni prima degli omicidi, era stato arrestato per aver appiccato incendi in quell'area. Tuttavia, lui negó di essere il responsabile. Disse di essere stato in compagnia di familiari o parenti nei giorni degli omicidi. A causa di queste prove circostanziali, i media hanno preventivamente etichettato Ono come il vero assassino. L'uomo continuò fino alla fine a dichiararsi innocente. Secondo lui, la polizia lo avrebbe addirittura torturato per storcergli una confessione. Il processo però non si ebbe nel 1986. Fu giudicato colpevole, e condannato all'ergastolo, ma in un successivo processo, nel 1991, la sua confessione fu messa in discussione, e successivamente fu assolto dall'omicidio. Subito dopo il suo rilascio, Ono era considerato dai giornali, e dalla gente, come un eroe, vittima di un terribile errore giudiziario. In effetti, le prove erano veramente scarse. L'unica coincidenza era lo stesso gruppo sanguigno dell'omicida. Un indizio importante, ma non essenziale. Tuttavia, coincidenza vuole, che gli omicidi si erano fermati dopo il suo arresto. Nel 1996 avvenne un fatto che, però, fece riaprire tutte le indagini chiuse come irrisolte per il caso degli omicidi di Tokyo. Ono Ezuo fu arrestato per aver decapitato, e dato fuoco ad una donna. L'uomo è stato condannato definitivamente, nel 1999, all'ergastolo per il brutale omicidio. Fu così che autorità, giornali, cittadini, dovettero ripensare se a quel tempo fosse stato davvero un errore giudiziario. Le indagini su di lui si riaprirono, per poi richiudersi come caso irrisolto qualche anno dopo. Dietro i terribili omicidi di Tokyo vi è ancora un velo inquietante di mistero. È Ono Ezuo il responsabile, o c'è un serial killer ancora in circolazione?